Soprannome? Mi chiamo Nel Cinghiale per come gioco a calcio. Non ho un soprannome per la verità. Che professione fai? Io sono consulente in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Mi occupo di dispositivi di protezione individuale. Come definiresti un comportamento irresponsabile di un lavoratore. Un po' come uno juventino. Grazie a tutti.